ciao amiche vi voglio far vedere come realizzare un centro tavola pasquale a costo zero vediamo subito cosa occorre ragazzi ci occorrerà solo una scatola delle uova e qualche uovo allora io qui già ho tolto la la marca diciamo che era incollata questo qui è di cartone e qui c'è la spiegazione insomma allora io per coprire andrò a utilizzare dei ritagli di tessuto dove dietro ho messo la carta termodesiva le uova ragazze non dovete far altro che quando andate a fare i dolci bucarne solo nella parte superiore vedete come ho fatto io potete riempire con tutte e sei le uova con 23 questo a gusto vostro adesso io non faccio altro che andare a rimuovere la pellicola protettiva per poi andare a incollare qui sopra perché lo voglio abbinare alla tovaglia ma potete utilizzare anche dei cartoncini colorati dei disegni fatti dai vostri bambini e li andate ad incollare con la colla vinavi la colla a caldo insomma poi sta sempre a vostro gusto o potete addirittura dipingere il contenitore magari vi divertite con i bambini allora io invece vado ad incollare con il ferro la forma che ho dato dentro adesso ci facciamo due risate perché non so se il ferretto c'entra in centra centra molto molto bene ecco qui qualche istante allora il nostro cestino ragazzi è pronto vado a posizionare le uova e guardate qui ragazze ci andrò a mettere un po d'acqua e guardate ho colto dei fiorellini nel campo eccoli qua e vi voglio far vedere anche il rosmarino chi magari non ha la possibilità come me di avere un giardino comunque se fate una passeggiata in questo periodo non fa male ecco qua guardate col rosmarino che poi profuma anche un po la tavola male non fa ho trovato delle erbette veramente carine io continuo a mettere fiori e poi vi faccio vedere il finale ecco ragazze ho riempito le uova adesso vado a tagliare questo pezzetto di scatola perché è la chiusura ma non occorre più però a noi ci occorre andremo a tagliare proprio una striscetta così poi la incolliamo facciamo un attimo l'uovo allora con la colla a caldo andiamo a mettere prima qui sullo sportellino sul coperchio questo che si muove ok la facciamo rapprendere un po e poi ci regoliamo come la vogliamo tenere aperta io ecco la voglio aperta in questa maniera quindi vado a mettere la colla anche all'altra estremità della nostra friscetta ok poi vado a posizionare il coperchio dove voglio e lo vado a bloccare ecco in questa maniera ragazze il coperchio rimarrà semi aperto riposiziono l'altro vetto e questo qui ragazze sarà sempre pronto basterà diciamo sistemare i fiori ok ci potete aggiungere un fiocchettino un bigliettino potete mettere i fiori solo davanti insomma ragazze questo è il mio centro tavola ma poi farò anche altre uova e le metto nelle tazzine lungo lungo la tavola beh io vi do un abbraccio strizzoso vi mando un bacione e spero che lo facciate anche voi pensando a me ciao amiche ciao